Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo mi scadono a cambiale fregatene pensa la salute ricordate quando uno c'è la salute non è mai povero ricordatelo fregatene ciao ciao buongiorno a tutti buongiorno ciao buongiorno sentite un po ma quel che hanno messo giù ma che è nuovo io non l'avevo mai visto mamma però non gli sfugge nessuno con quell'occhio ma guarnacci ne è venuto ma penso che stia poco bene ma ho un desudi capiato gli orecchioni ma gli orecchioni non è una malattia da bambini eppure di quelli che non gli piacciono le donne davino non lo sapevo che c'era il tuo vizietto ecco il ricordato e guarda che schifo di servizio alle finanze hanno aperto uno spaccio che è una meraviglia dammo un maritozzo va solo questi cornudacci non lo mettono al manacco di bellezza 17 luglio leonardo piccinini di romaranghi leonardo 11 anni fa il 17 luglio del 2013 si spegneva a roma un grande scrittore prima di altre definizioni perché poi parliamo di un grande sceneggiatore avete avete visto il primo contributo di un saggista di un poeta di un drammaturgo stiamo parlando di vincenzo cerami pensa si è spento il 17 luglio come vincenzo il mio babbo che bello vedi qualche anno prima due grandi no vabbè adesso parliamo di cerami vincenzo cerami era siciliano d'origine ma era nato cresciuto e vissuto sempre nella capitale era un vero romano era uno scrittore che nonostante un grandissimo successo appunto come sceneggiatore cinematografico si può parlare veramente di successo planetario non aveva però la posa e i vezi che spesso hanno alcuni molto meno importanti e meno dotati se non se la tira no è una voce davvero rilevante del nostro patrimonio culturale era capace di essere una voce tragica la sua una voce molto molto ironica drammatica pensate al contributo iniziale un borghese piccolo piccolo una voce di cui ancora si parla troppo poco e di cui certamente si sente la mancanza sulla repubblica qualche tempo fa era stato lanciato una sorta di appello alberto anile riscopriamo l'autore vincenzo cerami e la sua prosa scabra antiretorica e attraversata da un'ironia trassognata e l'almanacolo si unisce a questo appello ed ecco che interviene con una puntata a lui dedicata cerami nasce a roma lo abbiamo già detto 2 novembre nel giorno dei morti segno scorpione 1940 e suo padre è un maresciallo dell'aeronautica siciliano che si era trapiantato a ciampino dove appunto il giovane vincenzo frequenta le scuole è il luogo questo di un incontro felice e destinato a indirizzare il corso della sua vita perché seduto tra i banchi si ritrova e sono incontri veramente spiazzanti si ritrova come professore di lettere pierpaolo pasolini e da lui apprende questo dice cerami la passione e la curiosità per il mondo stupendo è proprio con lui che comincia la sua strada nel cinema perché lo seguirà come aiuto regista dalla metà degli anni 60 e pensiamo che fin stupendi comizi d'amore uccellacce e uccellini e poi nell'episodio la terra vista dalla luna delle streghe si nel nel frattempo cerami ha finito un liceo scientifico e si è iscritto a fisica alla sapienza ma non prosegue fino alla laurea perché la letteratura bravo è ciò che gli interessa maggiormente anche perché visti questi incontri straordinari il capolavoro arriva subito nel 1976 un borghese piccolo piccolo molti di voi l'hanno letto avranno visto il film è una satira davvero feroce grottesca delle frustrazioni borghesi e il film è ovviamente di del grandissimo mario monicelli arriva subito se un anno dopo con alberto sordi shelly winters è un film terribile terribile cattivissimo era riuscito a trovare un piccolo lavoro come professore di lettere in una scuola di ciampino con 25 mila lire al mese e passava il tempo con i borgatari come si dice come si diceva a roma cioè con i poveri in mezzo proprio al popolo spiccio da quello che dicevo prima lontano dalla storia che viveva la giornata che improvvisava la vita così con l'innocenza il candore appunto di un animale di un animale randaggio lui ha sentito che di trovarsi ovviamente in un mondo che gli era congeniale anche anche perché pieno ripeto di vitalità di sensualità di allegria ma se vogliamo dire anche non borghese questo era per lui importante perché il borghese specialmente per una per per uno come lui omosessuale poeta insomma un transfuga ecco lì tra i transfughi era transfuga anche lui quindi nessuno ci faceva caso seguono le pubblicazioni di amorosa presenza 1978 il romanzo inversi addio lenin del 1981 la lepre 1988 che è un romanzo storico fantastico è una delle prove migliori di cerami dopo il romanzo d'esordio e risulta vincitore del premio nazionale letterario pisa poi ancora l'ipocrita e poi nel 97 arrivano i fattacci in cui cerami racconta analizza quattro delitti saliti alla ribalta della cronaca della cronaca italiana due binari uno la letteratura vera e propria e l'altro la sceneggiatura le sceneggiature per il cinema e che sceneggiature bellocchio gianni amelio i ragazzi di via panisperna e porte aperte giuseppe bertolucci nuti sergio citti giovanni veronesi e il viaggio di capitano fracassa che lui scrive con ettore scola e ancora die con antonio albanese che salutiamo con affetto ciao antonio uomo d'acqua dolce la fame la sete il nostro matrimonio in crisi e poi quel sodalizio fortunatissimo che nasce da un'amicizia vera nicola piovani e roberto benigni i tre hanno insieme portato a esiti davvero grandiosi perché la vita è bella è il romanzo di cerami e poi il film che vince come sappiamo tre premi oscar piovani benigni e miglior film straniero e cerami secondo me ingiustamente non viene premiato per la candidatura per la sceneggiatura prima sempre con benigni erano nati il piccolo diavolo johnny stecchino e poi pinocchio di benigni la tigre e la neve con piovani poi realizza dei progetti trasversali di parole musica ad esempio canti di scena o lo spettacolo teatrale romanzo musicale nel 1998 dopo una lunga pausa creativa cerami torna di nuovo la narrativa negli anni 2000 ricordiamo alcuni titoli fantasmi l'incontro vite bugiarde e nel 2007 gli occhi di pandora sarà corredato dagli bellissimi disegni di un altro amico del canale il coltissimo milo manara sì ricordiamo che piero visita una mostra di milo manara si è emozionato molto adesso però l'ho già detto una volta non me lo fa ridire comunque manara era felicissimo era molto contento va bene riguardate le date a vedere le mostre di milo manara in compagnia e poi bene e poi basta infrattatevi si è dedicato anche alla politica nel file del partito democratico insieme a walter veltroni come suo responsabile culturale e anche all'insegnamento è stato docente alla sapienza alla pontificia università gregoriana e ovviamente alla scuola di cinema a cine città e poi nel 2006 quella laurea che lui non aveva preso tanti anni prima arriva come laura o no ris causa in letterature e filologie europee a pisa viene conferita dall'università degli studi di pisa ha avuto due figli che salutiamo entrambi nati nel segno del cinema l'attrice aisha e il figlio matteo che fa il regista si è spinto appunto il 17 luglio del 2013 aveva 72 anni e si è spento nella sua o la parte più difficile all'inizio il primo passo è l'idea l'idea è la cosa più difficile che loro perché tra l'altro non ci vuole neanche il mestiere lì è un fatto di puro talento è una bellissima idea possono averla tutti però una volta trovata l'idea allora siccome si può cominciare a fare tecnicamente un film l'idea per essere tale contiene sicuramente all'interno un conflitto non c'è nessuna possibilità di raccontare nulla se non c'è un conflitto una lotta tra due forze avverse aversi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Senti, è una prima appunto che si svolge sull'acqua, o meglio, si svolge su una grande chiatta sul river Thames, sul Tamigi, il 17-7-17-17. Io faccio le corna, non si sa mai. Tiè! Ricordiamo anche che le chiatte allora non erano ancora a motore. Non so se questa cosa... Per evocare come si svolse l'evento è sufficiente citare un breve estratto da una cronaca del 19 luglio di quell'anno. Dal Daily Courant, giovedì sera verso Beottle, il re, the king, si è imbarcato a Whitehall, in una barca aperta e ha percorso il fiume, che è il Tamigi ovviamente, the river, sino a Chelsea. Erano presenti altre marche con molti notabili, così numerose che tutto il fiume ne era coperto. Un'imbarcazione era riservata alla musica, con 50 strumenti di ogni tipo che suonarono per tutto il tempo. Le più belle sinfonie espressamente composte per l'occasione dal signor Handel. Al re piacquero tanto che se le fece ripetere più di tre volte, all'andata e al ritorno. Era una compa... parlavano tutti in tedesco. Sì! Alle birre c'era anche... Alle 11 ci fu una cena, indi un altro bellissimo concerto, sino alle 2. Dopodiché sua maestà tornò alla sua barca e rifece lo stesso tragitto, mentre la musica continuò a suonare fino all'aeroporto. All'aeroporto. Fino all'aeroporto, ma incredibile. Cioè, si rende molto bene con questa descrizione l'eccezionalità di quell'evento. Possiamo aggiungere qualche dettaglio sonoro. Allora, musica d'occasione da eseguire in circostanze così particolari. Richiedeva ovviamente una cura specifica della veste sonora. Non c'erano gli altoparlanti. No, era open air. No, perché oggi sarebbe più facile. E un imbastitore straordinario di grandi eventi musicali come il tedesco, poi diventato un po' inglese, Endel, non si fece certamente trovare lì impreparato. Water music. Per la water music, per la musica sull'acqua, lui si serve di un'orchestrazione opulenta. Eh, devo fare un bel baccano. Un sacco di ottoni, corni, trombe, legni, ma legni intesi come traversieri, flauti, abecco e tante file di archi. Sì, qualche testimone dell'epoca avrebbe addirittura parlato della presenza di un clavicembalo sulla chiatta galleggiante, ma i filologi più puntigliosi ritengono che queste fonti siano inattendibili. Un clavicembalo o meno... Chi se ne frega. Tutti sono d'accordo, infatti, che la musica sull'acqua, la water music, sia stata apprezzata al punto da diventare, su richiesta di re Giorgio I, in persona una sorta di colonna sonora perenne per l'intera durata del viaggio di andata e di ritorno, tre esecuzioni a tratta. Cioè era come prendere il disco e girarlo, solo che era il disco umano di questi poveracci e poi avrebbe intrattenuto anche il ricevimento che scandì la prodo a Celsi. Io ne feceva così. E' un successo che è passato alla storia come un atto, diciamo, di riconciliazione tra il monarca e lo stesso Ender, perché c'erano stati degli anni un po' turbolenti. Il monarca e lo stesso Ender Il monarca e lo stesso Ender ecco infatti al di là di questioni di filologia musicale è interessante ripercorrere le vicende storiche intorno a questa prima pazzesca Georg Friedrich Handel e Giorgio I si conoscevano già prima di Musica sull'acqua almeno dal 1710 quando Giorgio ricordiamolo era Georg come lui era Georg come Handel non Friedrich ma Georg Ludwig elettore di Hannover e Handel veniva da lui designato Kappelmeister quindi era il fiore all'occhiello di una corte che avvantava tra l'altro ricordiamolo dei veri giganti come Leibniz la monade la monade essendosi accaparato anche Handel si confermava Hannover come uno dei fiorenti centri artistici e culturali d'Europa e Handel era già un personaggio di prima grandezza molto conteso sia in Germania che in Italia e in Inghilterra e provincia e dovunque sopra di qua e di là dalle Alpi c'è un successo clamoroso che è quello del Rinaldo nel 1711 e nel 1712 approfitta delle ferie che gli aveva dato la corte di Hannover gli danno una licenza e Handel decide di dare il ben servito ai crucchi e di trasferirsi definitivamente a Londra e quindi a Londra diventa ovviamente protagonista assoluto della vita musicale nel 1714 quindi un quarto d'ora dopo succede l'impensabile cioè il tedesco Georg Ludwig che era stato tradito da Edith diventa re d'Inghilterra in quanto primo genito della principessa Sofia e l'ascesa al trono per tornare a Petrassi e i Romani a Cerami la vita è una rota e quindi veniva riconosciuto il trono solo ai discendenti di fede protestante in assenza di eredi diretti del re e della regina e questa è la causa per cui lui diventa re ed era motivata dal fatto di tenere alla larga gli steward è una regenza all'inizio un po' precaria chiaramente dopo l'insediamento deve incassare una vittoria in parlamento dei Whig che non perdono tempo a organizzare una rivolta un po' maldestra in combutta con i tori e i giacobiti per insediare sul trono gli steward che erano stati spodestati Giorgio I la spunta e saggiamente decide di rinunciare alle rappresaglie decide di pacificare perché così si mette anche al riparo da attacchi di re chiaramente se lui schiva questo tranello i tedeschi no i tedeschi di corte i tedeschi insomma a lui vicini non scampano alle ire della nobiltà inglese che era avversa re tra loro c'è anche Handel che viene sistematicamente ostacolato dalla nobiltà inglese quella avversa chiaramente a re e il colpo più basso che gli aristocratici furono capaci di assestare parecchi anni dopo fu la fondazione del teatro della nobiltà dove chiamarono puntualmente i rivali italiani di Handel porpora bononcini Handel finisce sull'orlo del tracolo finanziario perché spendeva e spandeva aveva una vita molto lussuosa e Giorgio I dal canto suo fin dall'inizio aveva capito che non era il caso di tenere troppo a lungo il broncio col suo vecchio beniamino Handel tanto più che Handel comunque ha anche lui qualche freccia al suo arco il conte di Burlington per esempio era un suo grande sostenitore e quindi dopo un po' di freddezza Giorgio I rompe il ghiaccio e lo invita ad accompagnare la star del violino Francesco Gimignani in un concerto a corte e poco dopo gli aumenta la pensione che gli aveva garantito la regina Anna e se lo porta nel primo dei suoi numerosi soggiorni a Danove perché aveva anche da badare a quel che succedeva di là della manica lo porta sul luogo del delitto, lo riporta dove lui era scappato come here 1717 il re si inventa le crociere sulle acque del Tamigi tra Whitehall appunto e Chelsea perché vuole aumentare un po' la sua popolarità e non ha dubbi che la parte musicale a ben donde si è rivelata la scelta più azzeccata debba essere affidata appunto a Georg Friedrich Engel Engel poi diciamo a quel punto lì è immarcescibile lui resta, i sovrani si succedono morto un re se ne fa un altro come i papi infatti lui dopo il suo Giorgio I servirà altri tre regnanti inglesi si narra che quando vede arrivare Giorgio II in ritardo a un suo concerto ufficiale non si faccia troppi scrupoli per redarguirlo fermamente e sembra che il re abbia incassato in silenzio so gli zarno lo faceva no, tagliavano subito tutto senti lui si spegne nel 1759 aveva 74 anni viene sepolto nell'abbazia di Westminster e dopo le esequie solenni 3.000 persone nel Poets Corner nell'abbazia gli viene dedicata una raffigurazione in marmo che lo ritrae con lo spartito del Messia e possiamo dire che fino all'arrivo di Benjamin Britten ma forse anche fino a oggi la figura più influente della storia musicale inglese è rimasta quella del sassone Handel la cosa in realtà agli inglesi non dispiace neanche troppo anche se tendono appunto a dimenticare che lui non fosse un inglese Timbota non posso leggerlo oggi perché lo stiamo mangiando stiamo mangiando la carta del Timbota perché voi non mandate niente cellulosa la vacca, la gamagne, il heber che vuol dire la mucca si è mangiata in libri che sarebbe? beh è riferito all'ignoranza, all'ignoranti vedi? bello, saggio bellissimo, bellissimo bellissimo noi adesso passiamo da un tedesco a una signora tedesca la mucca? no non fare battute perché oggi compie 70 anni no la mucca tedesca ecco appunto oggi compie 70 anni si può dire Angelona che nasceva nel 1954 a D'Amburgo poi la famiglia si sarebbe spostata a Est e poi dopo si sarebbe ricreata la grande Germania di cui lei protagonista assoluta perché poi dopo il ritiro sparita sparita visto che stile e purtroppo le cose senza di lei in Europa non girano benissimo e lavora tutte le sue colpe tutto quello che vuole noi la vogliamo salutare guardala al manacco lei ascolta tanta musica ecco io l'ho vista tantissime volte è vero tra l'altro questo è molto bello da dire anche alla scala di Milano a Bayreuth non manca mai a compleanni privati senza scorte cioè tutto molto so siccome è nata a Hamburgo la omaggiamo con l'immagine del nuovo simbolo di Hamburgo dal 2017 costruita da Herzog e da Demeron la Elbe Philharmonie che su classica avete più volte ammirato questa sorta di nave sull'Elba un vecchio magazzino del porto su cui è stata sovrapposta una struttura di vetro un po' come la cupola del Reichstag di Norman Foster bravo Leonardo davvero sei una persona eccezionale quindi io direi cara Anghelona vienici a trovare no torna torna con noi sai che lei va a fare le passeggiate insieme a Messner so tutto sei andato anche tu c'è sempre lo stesso tagliere anche quando fa le passeggiate oh c'è i calzettoni i calzettoni l'Anghelona con i calzettoni sì mi viene in mente anche qualcuno che faceva delle telefonate la definiva va bene va bene no Anghelona ci manca perché come disse un attento osservatore una volta è l'unica che fa la politica perché lavora cioè Sarkozy pensava al rialzo dei tacchi all'immagine ah certo no no lei è concreta poi c'è quello che non devo farlo parlare perché se parla viene giù tutto è concreta poi teneva testa Putin perché essendo cresciuta all'est parlava un russo perfetto sì anche se non tenere testa Putin sì qualcuno avrebbe anche qualcosa da dire comunque comunque bene era una politica era una politica Avegen 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 noi ci vediamo domani e ricordatevi se cambiate canale siete degli Avegen degli Avegen al manacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini con Lucia Simeoni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samantha Chiodini realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini prodotto da Piero Maranghi una produzione classica HD Sky canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo